L'Original Mains è partner della Cotton USA fin dal 2010, eravamo alla ricerca di un cotone di qualità superiore e lo abbiamo trovato grazie a Cotton USA. Abbiamo deciso di diventare partner Cotton USA perché cercavamo un cotone di qualità superiore. Grazie a loro potevamo soddisfare tutte le nostre esigenze, sia stilistiche, sia qualitative e le mamme se ne sono rese conto non appena hanno avuto i prodotti in mano. La differenza tra Cotton USA e un cotone normale è che il cotone normale potrebbe presentare diverse impurità, quindi essere opaco, spento, non far risaltare i colori quando lo vai a tingere, mentre invece il cotone americano, avendo una fibra lunga, essendo senza impurità, ha tutte le facce che sono tonde, quindi quando gli riflette la luce contro rimbalza e sembra quasi che si specchi. Anche dopo, quando uno lo va a tingere, in pratica il colore risalta agli occhi e dà un effetto molto particolare. Cotton USA ha un grande appeal verso il pubblico. Gli utenti finali sono contenti, entusiasti, già sanno di cosa si tratta grazie all'informazione e alla pubblicità che facciamo di continuo. E' un connubio che si presenta sempre bene sui capi. Devo dirle in un'unica parola, me ne consenta almeno due, qualità ed affidabilità.